Oggi a questo incontro parleremo delle impermeabilizzazioni delle coperture piane e daremo anche dei ceni su quelle che sono le opportunità per l'installazione di coperture a verde, quindi giardini pensili, una volta che abbiamo sistemato la copertura dal punto di vista della tenuta all'acqua. Sappiamo che le coperture piane sono soggette generalmente a delle criticità, sia coperture in legno che coperture tradizionali per lo strato di tenuta, quindi dobbiamo assicurare che il sistema di impermeabilizzazione non abbia delle falle. Quindi spiegheremo nello specifico con membrane sintetiche di impermeabilizzazione, in particolar modo le VA, come poter mettere in sicurezza una copertura in difesa delle infiltrazioni a lunga durata, quindi a lunghissima durata garantendo al committente delle prestazioni ottimali che siano il più possibile sicure, affidabili e resistenti nel tempo.